Risotto alla birra scura. In questa ricetta vi proponiamo un gustoso e originale risotto alla birra scura, con pancetta affumicata e scaglie di formaggio grana, perfetto per una cena di febbraio. Se preferite, potete sostituire la pancetta con del prosciutto crudo, così da ottenere un risotto dal sapore più delicato. Iniziate preparando gli ingredienti. 150 g di pancetta affumicata, 200 g di riso carnaroli, un mezzo litro di birra scura, un cipolla, 50 g di burro, un quarto di formaggio grana, sale e pepe. In una casseruola, fate rosolare la pancetta a cubetti con un cucchiaio di olio. Aggiungete poi la cipolla tritata finemente e fatela soffriggere finché non sarà dorata. Unite quindi il riso, mescolatelo con un cucchiaio di legno e fatelo tostare a fuoco vivo per 2 a 3 minuti. Aggiungete ora la birra scura e, mescolando ogni tanto, fate cuocere il riso per circa 15 minuti. A metà cottura, aggiungete un pizzico di sale e di pepe. A cottura ultimata, spegnete il fuoco e mantecate il risotto con il burro e il formaggio grana grattugiato. Servite il risotto ben caldo e decorate con una spolverata di pepe nero macinato al momento.